Allora, ricostruire una nuova scuola dopo la pandemia è il tema di quest'anno della tre giorni per la scuola 2021. Si è appena terminato un seminario intitolato apprendimento delle lingue per il dialogo interculturale. Di fianco a me ci sono i dirigenti scolastici e comunque i professori che hanno partecipato appunto a questo bell'evento e quindi approfondiamo il tema che è stato appena discusso. Iniziamo con Donatella Solidone, dirigente scolastico USR Campania, ufficio quarto, referente regionale pianolingue della Campania. Benvenuta. Grazie, grazie anche per questa opportunità. Voglio ringraziare Città della Scienza e la Regione Campania, gli organizzatori di questo evento che è ormai diventato una tradizione che tutte le scuole attendono e quest'anno averla ripresa anche in presenza è un segnale forte e importante per le scuole e anche per tutti noi nella speranza che tutto ritorni alla normalità. Siamo appena usciti dalla sala a Verroè dove abbiamo tenuto un seminario che è relativo all'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere. Come lei ha già detto io rappresento l'ufficio quarto dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, ho portato i saluti del dirigente dell'ufficio quarto che è il dottor Romano, io sono la referente regionale per il pianolingue e mi occupo di tutti i progetti che l'ufficio scolastico regionale promuove per la diffusione delle lingue straniere ma soprattutto per l'apprendimento di quelle che sono le culture straniere. Ecco perché questo titolo l'apprendimento delle lingue per il dialogo interculturale. Il punto di partenza e la convinzione di fondo da cui noi e i colleghi che sono qui accanto a me siamo partiti e lavoriamo nella prospettiva e nel punto di partenza che la conoscenza delle lingue non può fermarsi soltanto ad una mera capacità comunicativa per favorire i viaggi o per favorire gli incontri. La conoscenza delle lingue ha un valore intrinseco molto più profondo e importante e che è quello che le scuole italiane nella formazione di cittadini responsabili deve perseguire, ovvero il raggiungimento di persone che attraverso la conoscenza delle lingue straniere imparino a conoscere le culture straniere, a conoscere le diversità, a saperle apprezzare e includere. Quindi anche questo è un lavoro di inclusione, includerle come ricchezza per poter avere poi crescere in una prospettiva di apertura multiculturale che può non solo offrire opportunità di lavoro e di studio all'estero ma che soprattutto, e questo è poi lo scopo finale che vuole perseguire la scuola italiana, la scuola campana, quella della formazione di cittadini abituati a interfacciarsi con persone diverse e quindi a superare il muro delle ostilità e a costruire un mondo di pace. Grazie mille, grazie mille alla dottoressa Solidone. È un tema ovviamente attualissimo per l'educazione dei ragazzi, ma come diceva lei, in un mondo globalizzato mi sembra effettivamente importante proprio prestare attenzione a questo aspetto. Allora, vi presento adesso Antonio Curzio, dirigente scolastico del Mario Pagano, scuola capofila della rete ESABAC. Sì, innanzitutto cos'è l'ESABAC? L'ESABAC è un acronimo da esame di Stato e baccalaurea. Sono poche scuole riconosciute dai due ministeri, quello italiano e quello francese, che possono dare il duplice diploma sia francese che italiano agli alunni che li frequentano. La rete è una rete stessa che non si levita alla Campania, ma anche alla Basilicata e la nostra scuola la coordina. È un progetto centrato sul francese principalmente, sia come metodologia di studio, sia come conoscenza della lingua per noi e altrettanto per l'italiano, per i ragazzi che in Francia lo seguono. È un progetto che si arricchisce chiaramente oltre che di una competenza linguistica, anche di una competenza interculturale. Ci sono dei progetti come Transalp che prevedono scambi di a lunghi, con lunga permanenza per su altre famiglie e partecipazioni alle attività delle altre scuole. Fondamentalmente, è chiaro, parlavamo di post-pandemia, una serie di iniziative che accompagnano il percorso scolastico sono state in parte bloccate come tutto il resto. si sta ripartendo e si sta ripartendo soprattutto nel forte intento di creare dei centri di cultura che possono essere nel nostro caso della lingua francese o di altro, ma soprattutto per far comprendere che oggi una formazione non solo scolastica ma anche della persona è una formazione che inevitabilmente è internazionale. Forse noi pensiamo ancora che l'inglese sia una lingua straniera, sappiamo bene che oggi è la lingua di comunicazione, è la lingua dell'università, è la lingua delle conferenze e qualsiasi altra lingua, in particolare in questo caso la lingua francese, è sicuramente un ampliamento delle proprie prospettive e una nuova prospettiva di vita dei ragazzi. È importante anche che queste attività abbiano dei riconoscimenti internazionali. Nel nostro caso c'è un areale anche convalida dei titoli di studi presi all'estero, per cui i nostri ragazzi saranno diplomati dal ministero francese e questo è segno sempre di una maggiore cooperazione tra stati anche a livello culturale e scolastico ed è ciò che noi ci auguriamo di poter portare avanti col tempo con sempre maggior forza. Grazie. Perfetto, allora ringraziamo il dottor Antonio Curzio, appunto dirigente scolastico del Mario Pagano e abbiamo accanto a noi la dottoressa Maria Evelina Megale, dirigente dell'Istituto Comprensivo Romeo di Casavatore, scuola capofila della rete Clic Emil Napoli Nord-Ovest e Oltre. Buongiorno, grazie. Sono contenta di aver partecipato a questo seminario. Ringrazio l'ufficio quarto dell'USR Campania per avermi dato questa opportunità di presentare questa rete che da anni abbiamo e che coinvolge circa 20 scuole del primo ciclo finalizzata all'implementazione della lingua straniera fin dalla scuola dell'infanzia. Le iniziative che svolgiamo sono numerose, puntiamo principalmente sulla formazione dei docenti perché il punto principale è creare personale competente affinché ogni attività didattica possa essere sistematica, organizzata e finalizzata al raggiungimento ovviamente delle competenze linguistiche prioritarie oggi, così come vi riferiva la collega Solidone. Grazie per l'opportunità alla Regione Campania e a Città della Scienza di averci ospitato e a questa tradizione che ormai fortunatamente è ritornata dopo due anni di sospensione. Assolutamente, questa è anche un'occasione ottima che ci porta a pensare a una ripartenza per il prossimo anno e ancora di più voglio dire per rivivere anche il prossimo anno un'edizione bella della Tre Giorni per la Scuola. Concludiamo queste interviste con il professor Luigi San Martino, San Martino referente, scuola capofila Isis Enrico Caruso, Napoli, Rete Certilingua, Campania. Allora, buongiorno a tutti, anch'io non posso non ringraziare Città della Scienza, l'USR Campania e ho portato i saluti del mio dirigente, la dottoressa Letizia Testa, che per un imprevisto istituzionale oggi non è qui con noi, ma attenta a tutte le attività della Rete Certilingua. Presento brevemente la Rete Certilingua Campania, eletta stato di eccellenza, dei nostri ragazzi che riescono al fine del diploma e quindi del quinquennio ad ottenere almeno due certificazioni B2 in due lingue straniere, un'attività interessante e importante all'estero di intercultura e un numero di almeno 70 ore di attività di metodologia CLIL nell'ultimo piegno. Ho presentato come la Rete Certilingua Campania, una rete diciamo di ottima salute e di grande crescita, siamo secondi a livello nazionale con 35 istituzioni scolastiche del secondario di secondo grado e con quasi 100 candidature per quest'anno dell'attestato di eccellenza. Grazie a tutti per l'ospitalità e grazie soprattutto anche a Città della Scienza che permettono queste bellissime iniziative. Complimenti a tutti voi, grazie per aver partecipato, ovviamente vi aspettiamo per altri progetti insieme da condividere sempre con le Regioni Campania e con la Città della Scienza. La Tre Giorni per la Scuola ovviamente continua e mi raccomando seguiteci sui nostri canali social. Arrivederci. Grazie. Grazie.